Anche se Mattia è giovane, però viene da un bel po' di esperienze, al più fuori che puntiamo su tutti i giovani, quindi con i giovani c'è stato pure un allenatore che è preparato, l'abbiamo notato, l'abbiamo visto quasi tutti quanti, so che Anche non è solamente bravo, ma stare pure in contatto con i giovani, con i giocatori è quello che a me piace. Sicuramente le finanze di costratture avevano delle buone qualità e quindi in realtà si vede che un buon lavoro merita quello che ne abbiamo offerto. Il calcio è il quartiere della mia vita, io ci dedico 24 ore su 24 per questo sia mestiere che questa passione, è stato un orgoglio ricevere questa proposta che è stata inaspettata per me, ma lo ringrazio al Presidente, il Direttore, Natali e il Mister che non c'è più e mi ha portato qui l'anno scorso. L'obiettivo tuo e della squadra? La squadra, il mio obiettivo è portare entusiasmo, portare una mentalità di freschezza e raggiungere i risultati che ci siamo previstati con il Presidente. Nel prossimo momento io voglio sia il Mister che si può aiutare il suo staff più insieme al Direttore vedranno loro direttamente quello che vogliono fare sia le persone, i calciatori che vogliono, è un accordo tra di loro. So che già stanno un po' lavorando, so che lunedì hanno pure una riunione tra tutto lo staff per quelli nuovi, non so, il Mister, chi lo è tanto, le per decisioni su, quindi sarebbero loro. E vengono col tempo, con le idee, si possono fare vari cambiamenti, varie soluzioni, è importante essere chiari e decisi in quello che si fa.